La sharing economy è l'economia della condivisione, cioè la possibilità da parte di ciascuno di noi di utilizzare un bene per un certo periodo di tempo senza averne la proprietà. Quindi la possibilità di utilizzare un'automobile con o senza il guidatore per un certo periodo senza appunto doverla necessariamente comprare. Questa sharing economy è vecchia quanto il mondo, abbiamo sempre avuto per esempio la possibilità di andare a prendere una camera d'albergo, però nell'attuale momento le possibilità della tecnologia con le nuove piattaforme rese possibili dall'informatica e dalle telecomunicazioni rendono questa sharing economy un settore in grandissima espansione proprio per la possibilità di mettere in relazione diretta chi ha dei beni, vuole offrirli sul mercato e chi ha bisogno di utilizzarli. All'ottavo seminario della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises 2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro il professore Gianfranco Fabi, editorialista del Sole 24 Ore di Radio 24, ha trattato il tema la sharing economy al tempo della globalizzazione. La sharing economy è un fenomeno che si riconosce in molti settori e può essere riguardata e studiata da diverse angolazioni, ha innanzitutto evidenziato Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Organizzatrice, nell'introdurre la trattazione. La stessa, al pari della maggior parte delle istituzioni sociali, rappresenta un prodotto non previsto e non programmato dell'interazione sociale, formatasi spontaneamente nel processo di mercato. Detto fenomeno, ancora aggiunto l'avvocato Scoppa, si è rapidamente diffuso in ogni parte del pianeta, raggiungendo e coinvolgendo anche a molta distanza persone, ambienti, luoghi, beni e servizi. Una cosa impensabile solo qualche anno fa, ma che ora è stata resa possibile dalla tecnologia del nostro tempo e da quel fenomeno che è la globalizzazione. E' quindi intervenuto il professor Gianfranco Fabi, il quale ha sottolineato che la sharing economy non è una realtà nuova, ma un modello economico che sta avendo una grande espansione grazie alle moderne tecnologie, che sfruttano le potenzialità dell'informatica e delle telecomunicazioni. Si creano in tal modo piattaforme digitali che possono mettere in relazione domanda e offerta in una logica di mercato sempre più ampio, e così settori come quelli dei viaggi in auto, della ricerca di camere d'albergo, alloggi di vacanza, dei servizi professionali e finanziari oppure nel campo dell'informazione, la sharing economy può offrire grandi opportunità. In sostanza essa allarga enormemente il numero di coloro alla cui vita possiamo contribuire e che per tale ragione devono in cambio fornirci ciò di cui abbiamo necessità. La sharing economy, ha poi concluso il professor Fabi, si muove sostanzialmente nel solco del liberalismo e risponde alle logiche del mercato, che è un segmento dell'intero processo sociale nel quale è sovrano il consumatore. Quest'ultimo, infatti, con le sue scelte, determina l'oggetto della produzione, nonché la qualità e la quantità della fornitura di beni e servizi, e in via finale il successo o l'insuccesso di un imprenditore o di un qualunque altro attore. La sharing economy è una grande opportunità, richiede ovviamente delle regole che possono garantire gli utenti, i cittadini di fronte all'offerta di questi servizi, ma con delle regole anche che non blocchino questa novità, questa evoluzione, che può offrire delle grandi opportunità anche di lavoro, anche per la progettazione di queste nuove piattaforme, e per l'offerta di nuovi servizi. Quindi, come tutte le cose che possono ampliare il mercato, che possono ampliare le opportunità da parte dei singoli, è una cosa che vale all'ottica di un'economia liberale, un'economia che richiede appunto un'ampiezza di mercato, ma anche una responsabilità da parte degli operatori. Alla fine della relazione si è svolto un articolato dibattito, nel corso del quale i partecipanti al seminario hanno avuto modo di proporre le loro riflessioni sull'argomento trattato e di sottoporre quesiti, domande, e considerazioni al relatore. Il prossimo appuntamento, il nono della Scuola di Liberalismo di Catanzaro, è fissato per il 24 marzo alle ore 15, sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Grecia. Interverrà il professor Giampaolo Garzarelli dell'Università La Sapienza di Roma, che tratterà il tema Decentramento del settore pubblico, mercato e libertà. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionescoppa.it